Con tutti i suoi parenti, zii e cugini compresi, organizza un bel gruppo che si occupa di veloci scorribande nei capannoni di mezza Europa. La loro specialità è riuscire a svuotare rapidamente i capannoni con il rame abbandonato. In Belgio però qualcosa va storto ed i componenti della banda vengono filmati mentre asportano 38 blocchi di zinco, ma la loro caratteristica di itineranti del furto li preserva dal finire in carcere, almeno sino al controllo di una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia Carabinieri di Eurisina, che rintraccia uno degli appartenenti alla banda criminale mentre cerca di fare rientro in Romania. Su di lui pende un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria del Belgio, emesso nel settembre scorso. L'uomo, un cittadino romeno di 46 anni, deve scontare 1100 giorni di reclusione per furto aggravato continuato. Così l'equipaggio della radiomobile di Eurisina lo arresta e lo conduce al carcere del coroneo in attesa dell'estradizione.